Iniziamo con questo gameplay Questo bisogna avere, non verso il ragazzo, ma verso il cani Come ne conoscete tutti, Just One è diventato lo Spiel dei Cares E noi siamo qui per fare al volo un gameplay Perché va fatto per forza Il gioco consiste nel cercare di dominare 13 carte È un cooperativo Il giocatore attivo gira la carta Fa un numero, 3 per esempio E chi si trova al tavolo dovrà dare degli indizi a chi non vede la carta Per cercarla di indovinare Attenzione, due indizi uguali O con lo stesso nome o con lo stesso significato Diciamo, stessa famiglia Si eliminano Girano i cavalletti E con gli indizi che vedrò dovrò indovinare la parola Vediamo che punteggio riusciremo a fare Qui si parte da 0, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Ci presento Ma noi abbiamo il cavallo di battaglia che è Bregocca 92 Bregocca 92 Bregocca 92 Poi c'è Kicca Poi c'è Non parla Poi c'è Scriviti Bello sguardo, no, bel sorriso Occhi di Pasco Lorenzo Lorenzo Cascritto Avaluando Ah 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 Fregata Vabbè Caetano, Eleonora, Sauro, Gianluca in regia Veramente io sono Thanos Ricordatevi Bregocca 92 Potete aggiungerlo su qualsiasi social Si, vabbè No, ma è vero Perché se no Kicca vi viene a cercare E vi uccide Maschio femmine che siete Vai vai Inserio primo giocatore Mi devo suicidare Il numero Il numero è Quindi il numero sono Quattro Esatto Con De racchetto Strumento Chiave Ha Eh Ogni tanto Ti cazzo Sto cosa Che non Ti cazzo Si pronuncia Così Si Ok Mi ricordo Stavivare il siglazio Esatto A me mi viene in mente una cosa sola Ma spero di non fare la figura di merda Vado Sì Violino Sì Bravo Io sono l'anerlo debole Un punto Tu Grazie a stradivare Grazie Su Gaetano Non l'ha fatta Dove l'ha fatta Cazzacchi Vai Gaetano Sei tu il prossimo Sono un numero Uno Ecco Farire Farire Vabbè Beh Io si C'è anche Mi copro gli occhi Mi copro gli occhi Mi ricordo Io non so Che scrivi Posto Ci dici Si Ok Ok Fa freddite Va bene Ok Vai Gaetano Apri Numero Sì 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 Sbagliare Arti scemo Abbiamo abbastanza Arti scemo proprio Cinque No Io ce l'ho Era unicorno La miseria Ok Allora Che si può Io ce l'ho Non basta scriverla Ok Eh però Uffa Vai Chi gli occhi Chi gli occhi Vai A lui Eh Ok Questo si Sì 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 Ma noi non vediamo niente Siamo bravi Ma non posso Sì Puoi 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 Dì Dì a tanta voce Dì Te la danza Sì Ragazzi Bravo Ma c'è una parola Beicca Sei tutti noi Se ho sbagliato Se ho sbagliato Ah devo dire il numero Sì Tre E poi Ma non stava se dicevi due Letame Cavolo Non avrei detto Avrei detto cacca Ok Oddio Ho letto un'altra cosa Che cos'è Brego Ce lo sapevo Sarà il suo Sarà il suo L'ho Ce lo sapevo Vabbè Puoi vedere Sì Odds Talbacchia Incantesimo Loch Ness Prosciugato Secondo me è più simile il mio Devo capire Odds Vabbè Lago Eeeh Dai l'unplame Dai l'unplame Che nozzo Oggi Stacco a pagliare Ah ok Io incantesimo Nel lago Io volevo mettere Io volevo mettere Talbacchia E' un lago Pilato 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 Io non so niente Si può Puoi cambiarlo No vabbè Lo sai quello che è Puoi passare E' un'ignorare E' limitato Sì In quanto hai la nostra conoscenza è limitato Perché noi ne scattiamo tutto In quanto hai la nostra conoscenza è limitato Vabbè vabbè Proviamoci 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 Il gioco è questo Proviamoci Certo Anche qui deficiterò di giocare Di privato Di giocare a me Fatto Apposto Andata bene Non ci siamo scattati niente Ok Legge tanta voce Questa Quella seconda Di legge tanta voce Un po' tanto Allora povero Bo Bo Non lo so Stato Nazione Rossa Tanti auguri Dove ci stai Dove è? Io non ci avrei mai Passa la Perché secondo me Ma così c'è sempre lo si chiamano due volte Esatto Io passerei Poi la dico Io passo Cina No Però c'era Ce n'erano più C'erano quelle Cile Ah Cina Però non potevamo scrivere No Cina Quattro punti e una scattata Quindi al momento siamo E' un buon inizio Riprovare 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 Number Quattro 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 Ok Io ce l'ho A me no Che ho già fatto E qua Lorenzo sa stare vicino Vai Allora io pure volevo scrivere No vabbè Ma perché Eh Ora che si era annullato Vabbè dai Io pure volevo scrivere Poi volevo scrivere Poi volevo questa Ok Era questa Annullata Selvaggi Quali Legna E' due annullati Io direi di passata Perché Cambiava quante cose Con questo Dove vi dire Nazareth Comunque non era Non ci fisco No vedi E' troppo lontano Ancora E' il conto vostro Numero Sempre quello Obbligoso No Ok Uno Si scrive così? Non lo so No non si scrive così Quello trattino Vabbè Leggi come si scrive Sì Ora vediamo Il colto Di questo gruppo Il L'italiano Mia voce Ciao 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 Om Ciao Chrome Come è scritto Chrome Vars Ricerca Vabbè Mi sembra semplice Vado La prima Ci ripenso C'è 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 Google Ciao Google C'è esatto Ciao Google Google Chrome Che cazzo Ok Google Ok Google Ok Ma si accende Gli va in blocco La macchinetta Vai Gaetano A posto Il primo che sbagliamo Uno Due Tre Quattro Cinque Dai dai Siamo entrati sulla Prima Sulla parte No Siamo sempre È un buon inizio E dai Dai Furia bello Tra Come pure Furia belle No Dico quella Sicuramente Non bro Non bello E' un buon inizio E' un buon inizio Oh nessuno finora ha detto tre Dico tre No Questo l'abbiamo già fatto L'abbiamo fatto Quando eravamo le tre Siete Vabbè Io ripropongo Io ripropongo Mi arriviamo No Qualcuno mi ruba L'idea Balletto Avese istituto Allora Vabbè Io sul Balletto volevo fa Bo Che cacchio è il volo per la ritorno, vai! puoi aprire? leggi, va, legge la tua voce sonora, musicale, maggiorette, tromba, bardo la banda anche passotti anche passotti, finissima stiamo andando bene? in diretta facciamo il punto del giorno bando bardo è sola e si sentiamo la testa vai per le bocca brego 92 4 va bene non è difficile, è problema che però la 5 era fighissima potter tutti erano di scrivere la fifa io scrivo fifa fifa potter mattello scaccia schiaccia chiodo eeeeeee ferro questa è una parola che la sua è divinata ferro io l'ho cancellato vedete tutti noi quindi predica Lorenza Eleonora io se ti chiude con me vado siete così attenzione attenzione tutte fantastiche no no tutte belle secondo me forse le sei una oddio ti prego dilla 5 è finita cosa vuole? non lo fai scrivere non lo fai scrivere io metto una parola però ho paura che non gli ho avuto la scritta chi è? io? no non è quei due si a meno che è una cosa che fondamentale io l'ho presa la larghissima proprio perchè ne so un po' di più degli altri no no io ho la larghissima perchè non so niente solo woki woki laser eh passo oppure passo? però il contesto l'hai capito si però non hai chiamato solo eh passala se non la sei dai non fa niente potrei provare però vabbè passo e dico quello stellare con questo ora abbiamo qualcosa? eh che ho il tranche non lo so spero che l'acqua ripresa ma se mi seal bring no ma l'hai matato non mi sarei ricordato come si chiama? ci becca ma se si uuua ma lavora ma Studies ma page devi LETTER se lo leggi vediamo allora tu sai tu sai la letra iniziale del primo che è sto genere un gazzo wu no che triste si Guarda no, sinceramente va, se c'è una, io passo E' buono Dove faccia? Io lo dico Non guardare, guarda 3 Non dovrei dire 5, come ci le facevamo Non è vero Se non dicevo 5, come ci fate 4 Allora, che possiamo scrivere? Solo Ma ovviamente è proprio questo, bravo Così non mi chiede perché Eh, il mio è un po' cazzo Posso? Sì, sì Vai Oro, perle, ciondolo, bigiotteria Marche Con lana Bene Adesso aiuto Bene, basta dire perle a Marche Esatto Finisci con Sauro 5, 6, 7, 8 Vincisci con Sauro Pronto, entriamo in categoria Protetto Un punteggio nella media Potete fare di meglio? Eh bene Sperate Con 10 possiamo fare Mi impegnerà Dai Indominiamo una e l'altra la passiamo E siamo nella categoria Che è? 2 Che è? 2 Ma no Di quella Ma no No dai 5, 3, 4 No Vero Eh Facci Facci Un punteggio nel cacchino Ripieno? Sì Bravo Dai 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 Guardati Quindi no Non era facile questa Non era facile Beh ormai siamo nel Hey niente male Perché questa No è cacchio Se sbaglio questa Dov'è che siete? Hey niente male Eh Eh Oddio Fammi cancella un buon bordo Però se sbaglio questa All'ultima carta Se si sbaglia Si toglie una carta da quelle giuste Giuste Quindi io passo Ahahah Che pezzette Vai Quattro E' perché il gelato? Perché quattro? Ma ti dite tre no? No perché ti dite tre Ti dite tre Ti dite tre Ti dite tre Guarda un po' che lui ti dite Ma no Ma no No non posso dire questo Cosa sta succedendo? Io l'ho scritto Se qualcuno L'ho scritto la massa Gaia devo cambiare Non è arrivata niente più a basso Nooo Nooo Siete crediti di come un Dario Questa è l'eliminata Bello il maiale Già Vai vai Leggi Leggi Vabbè vabbè Ve l'ho capito Ve l'ho capito Cioè senza leggere le altre Bottiglia Vabbè 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 Hai vinto pregotta Cioè sono sicurissimo Ve la rischio Ha vinto tutto Si battiglia Si Si era battiglia Si si Quindi finiamo con i nostri dieci punti Giusto? 3 4 5 6 7 8 9 10 Ehi niente male Un equino avremmo fatto grandi E' un punteggio da festeggiare Purtroppo Quindi non festeggiamo? Dovremmo rifare Ci sarà quella seconda puntata Niente birra Niente birra purtroppo Gia qualcuno suggerisce Spolliciate Aspetta Arrivederci Andiamo siamo imparati Qui vedono Tu hai tu concordo La Un like Spollicia Commentate Mancavo uno Mancavo uno Chi arriva prima? May May Concordo Ha 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 Seguiteci Iscrivetevi Condividete Eeeh, dopo il video di voi Ma concordo con tutti gli altri, è bellissimo Eeeh, niente Ma concordo con godia Per questo video è tutto, ci vediamo al prossimo gameplay Ciao 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 Ciao